salve a tutti i ragazzi bentornati sul mio canale un saluto dal fottuto italiano bastardo rieccoci qui per il primo episodio della miniserie intitolata live after live il titolo dell'episodio di oggi e hit me la sfida e mi vedrete alle prese con gli npsi della zona nera di division 2 in compagnia dei miei mirabolanti amici deno pad capo del fear team di cui vado orgoglioso e di cui faccio parte e del nostro grandissimo amico il barbone di lusso come andrà a finire questa sfida all'ultimo sangue lo saprete soltanto guardando il video tenetevi forte gente di merda si parte a voi piace o no che abbiamo diviso l'edatto? si io preferisco almeno si 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 così almeno ti giochi a livello che ti pare a te contra chi ti pare a te nel modo che ti pare a te eh dico che puoi scegliere cioè vabbè però non nel modo io dico proprio non diviso a livello server eh dico come tre zone geograficamente si proprio topograficamente si ci è piaciuto eh regà regà io ho un certo livello culturale che si manifesta soltanto in determinati momenti di illucidità sono delle riminiscenze antiche di a vite mie passate dove ero un elemento illuminato adesso mi sono fulminato quindi ste cazzi c'è Luca accesso alla zona nera rifornimenti z n disponibili io te lo dico dai non manco i mob riesco a uccidere quindi vedi come te devi mettere spara bene perché io non sei vantato posizione sorvegliata da ostili pesantemente armati però io devo fare una cosa poi devo far uscire sto canale lo devo fare entrare nella scheda audio per registrare anche voi che venite da discord ma come vabbè sti cazzi sparo da qua quando è sembra la stessa cosa ecco pistolina magica mette la pistoletta che non metta la pistoletta la gente è a terra gula bene arriva andiamo andiamo sei un oliente alleato è diventato un traditore mazze che stava semmai deciderò di caricare questo video a chi vede inquadrato questa sigaretta lunga ricordatevi che sono sigarette lunghe così ne faccio di meno non faccio usare di droghe anche se può sembrare il contrario che te lo dico a fare che te lo dico a fare e lo droga my old friend and so happy to see you again mi ha scioccato sto merda un attimo pure a me raga che non ho capito forse ci ho selezionato qualche cosa che non va bene del mouse qualche profilo sbagliato voi cercate qualcosa in particolare o mori zoccola esplodi e sballati mori sballata puttana chi è? ottimo tiro ma che me sei inceppato di nuovo? ma sei stronzo addio lurido e vedi vedi che cazzo dove stai? oh? e vedi non caricare salva deno non caricare coglione salva l'hai visto? l'hai visto? maledic tion se metto a caricare il fucile in colpo alla volta mentre l'amico muore ma sei frocio dico io bene sono riuscito a tornare in zona nera a livello 47 o morto caparl è morto lo scudo in piedi l'hai visto? rilevata una pattuglia nemica pericolosa ma dove vai biscotti? ha da morire tutto quando? si si aglio agente a terra fatality cioè capiti finiscono pure i mob cioè non solo da Ciron tranne pure la botta in cavo che facciamo? ecco bene devi fare title basin vieni vieni che è un cinema non già faccio più quant'è che te fai capire? oddio cani oh mazza e culo pure il guanto c'è il talento pattuglia ostile rilevata mostrategli il vostro odio sorpresa ce l'ho fatta no sai che mi sta pigliando bene grazie a te siamo persi un uomo mi sta prendendo un uomo mi sta prendendo un uomo non fai più il foro a giorni a giorni morti si lo adori grazie a te grazie a te grazie a te come dicono a Roma grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te il talento per essere trasferito ha bisogno che sia dello stesso tipo si offensivo offensivo difensivo difensivo ricchi esatto 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 se hai un talento offensivo ti ricalibra solo ok e anche quello va a random ovviamente no no cioè nel senso se tu hai un guanto le calibrazione insomma non ho un po' porco di un critico no ad esempio il talento critico si deve avere un altro talento il guanto di cazzo ad esempio io voglio mettere un cazzo non capisco un cazzo lo sento a pezzi pure voi si ma c'è deve fare va bene bello suo protocollo e dove lo vedo se è offensivo difensivo dal cerchietto del talento vedi che c'è un pallino con la freccia su o la freccia giù o il pallino vuoto nessuna visuale esatto e quelli là devono essere uguali a quelli che ti trasporti pallino su pallino su pallino dietro pallino dietro è finita pallino avanti e pallino dietro non ho una visuale sul nemico io ce l'ho subito puttana la visuale quindi mori va bene ecco qua comunque questo neon dentro sto cazzo di box dove sto che devo cambiare la lampadina luce calda perché mi fa proprio cadaverico più bianco cioè fra poco il soprannome mi metto casper dio cane c'è questa lampadina finita casper così te lo faccio tu lo sai ma dove cazzo c'è c'è una granata devo andare luce ich ah 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 luce calda questo la dimmi quando sei on mi metto vせ intanto tô dopo luce cazzo mi hanno scucito l'ano mi hanno scucito l'ano capo del cazzo nemico di te vado ovviamente dalla parte dove ne posso sparare ma come alzo d'eserco quando avevo il dio non puoi nascondermi da noi ma non lo so fra tu mi chiedi cosa non c'era niente io muoio perché devo morire in questo gioco il mattone conquistato che ne so sarà morto di iclus che cazzo ne so che gli è venuto a te area sicura rilevata vai casper vai scusate ma da quando il model 700 è sceso a 40k di danno eh da quando l'hanno nerfato oddio cane animale sai qualcosa quel porco dio sì perché io quando non c'era la pace del cazzo che c'era il cazzo che c'era il cazzo che c'era la pace del cazzo è arrivato pure lo sbordatore di Siviglia qua a San Marpo famiglia fai a fare pvp si no no cacca bravo Tu come siete? Ma tu che nemica vicina puoi staccare un video gioco sicuro Bobbo stacca la spina prima che fa una figura del merda Sì 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 vabbè quella figura del merda ormai hai capito? Io punto a farne sempre di merda Oggi morirai Oggi morirai perché prima non è morto Scusa Do stai? Do s'è me? Quindi si fa tidal basing Oh no pensavo che ti aveva sfogliato come una cellula Ma va cazzo una bomba in testa lo sapevo Ma dove ti sono stato riuscito? Guarda come l'ha messo Mi chiesta assistenza medica immediata Ma chi è quel mona che non vuole fare davanti? C'è un'altra legge C'è un'altra legge Il versaglio mi viene a dosso Destra Denno Destra Un'altra legge Muoviamo lungo il fianco Ci so Denno Nasconditi Denno va qui barba mio cà Ah, avatar ti unisci. Altri contatti ostili rilevati. Altri contatti ostili rilevati. Dove cazzo? Andiamo avanti, figlio di puttana. Stendeteli in fretta. No, hai visto il mondo? Guarda, 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 guarda. Chi è indietro, amico? Non posso affiancare a me? Gruppo. Ma fondino con che ruolo, giocavo. Ma potevi arrangerti, eh? Punto al fianco. Mi seguo? Bersaglio ferito. Ti vedo. Perché fa maradona, ma io non maradona, se no. Però... Fa riferimento. Tu pensa che Marco faccio ancora le missioni e le conizioni? Bene ragazzi, la sfida si è conclusa come avete visto con una vittoria e non poteva essere altro in quanto il vostro fottuto italiano bastardo non si fa fottere da nessuno. Una vittoria strappata all'ultimo secondo grazie all'aiuto del mio cavaliere indomito e senza macchia, Denopeld. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando ragazzi, mettete un like e attivate la campanellina per essere sempre aggiornati sugli ultimi contenuti caricati sul mio canale. Un saluto quindi dal vostro fottuto italiano bastardo, ci si vede alla prossima, gente di merda!